Mentre il Consiglio dei Ministri decide di incrementare le misure di soccorso e assistenza alle tante persone che stanno cercando rifugio in Italia e delibera lo stato di emergenza fino al 31 dicembre del 2022 per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio italiano in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, Anche in Abruzzo si susseguono le iniziative in favore delle popolazioni colpite dalla guerra. A Montesilvano sabato 5 marzo l'associazione Betel e il supermercato Conade di Via Verrotti daranno vita all'iniziativa SOS Tieni l'Ucraina. È possibile donare disinfettanti, bende, ovatta, antidolorifici, siringhe, alimenti secchi a lunga conservazione, alimenti e prodotti per bambini, omogenizzati, pannolini e altri prodotti per l'igiene, indumenti per uomo, donna, bambino e coperte. Il presidente dell'associazione Sergio Agostinone e il direttore del supermercato Davide Ardente invitano ad essere generosi. Con la Betel che è collegata alla chiesa evangelica di Montesilvano ci siamo messi d'accordo, loro hanno un camion nazionale che si chiama Io ti amo, partiranno da Taranto e faranno tutte le sezioni della Betel a livello nazionale. Io sono certo che la mia città dove sono nato, che ha sempre risposto in maniera eccezionale ai fabbisogni della gente, anche questa volta ci darà una mano. C'è un negozio di bambini, la Lullaby, che già mi ha detto che mi porterà con le etichette, quindi non usate, mi porterà del materiale da mandare in Ucraina. Noi crediamo nel ruolo della comunità, noi prendiamo tantissimo dai clienti che ogni giorno ci scelgono e è giusto che siamo in prima linea anche per dare qualcosa. In questo caso ogni anno, diverse volte durante l'anno facciamo raccolte alimentari. La più importante è quella di dicembre con la colletta alimentare, con la Croce Rossa, con la Caritas. Oggi, in questo periodo di questa crisi umanitaria ucraina che c'è, purtroppo, abbiamo sentito le esigenze di dare una mano. Quindi per sabato 5 marzo, attraverso la Betel, la collaborazione degli ex comandanti, quindi Sergio Agostinone, abbiamo organizzato una colletta alimentare qui in Punto Venita e invitiamo tutti i clienti a fare la spesa, ma a comprare dei prodotti idoni per il trasporto fino in Ucraina, al confine con la Polonia. Un piccolo gesto che va da 50 centesimi a qualche euro in più, tutti possono contribuire e dare una mano fattiva per questa situazione di emergenza.